Siamo con gli amici del gruppo Facebook 6 di Alzzano Lombardo, se un'altra delle vostre inventive possiamo dire, originalissima in Italia, pochissimi esemplari, il significato di questo telefono? Ma allora, è stata un'iniziativa nata per caso, dal fatto che stavamo cercando una cabina telefonica per trasformarla in book sharing, cioè prendi un libro, togli un libro. Nel cercare questa cabina telefonica, che non è facile da trovare, ci siamo imbattuti in questa storia, Minos è imbattuto in questa storia del telefono senza fili nata in Giappone, da un personaggio che aveva perso un parente e si è inventato questa cabina nel proprio giardino, in cima a una collina molto ventosa, dove lui, essendo molto affezionato a questo parente che era venuto a mancare, telefonava a questo parente sentendosi in qualche modo più vicino. Poi con la tragedia dello tsunami, del terremoto accaduto in Giappone, questa particolare idea ha avuto molta risonanza mediatica e tutti i personaggi che avevano perso purtroppo un proprio caro si sono ritrovati a casa di questo personaggio, che adesso mi spugge il nome. I rachi, i tatti, i rachi, e c'è la fila. Si è creata una attrazione quasi, non dico turistica perché è sbagliato parlare di turismo in questo caso, però una attrazione per cercare di comunicare con i propri cari persi. E visto quello che abbiamo passato anche noi, che sappiamo tutti, ci è venuta questa idea di proporre anche qui questo telefono chiamato telefono del vento, che è il terzo in Italia, in una zona che ad Alzano è conosciuta per la sua tranquillità, la bellezza, la natura. Quindi uno qui può venire, non è disturbato da nessuno e può parlare con un proprio caro che in questo momento non c'è più, che ha perso per qualsiasi motivo, non solo per il Covid. È un'idea solo per cercare di dare una mano anche morale magari a chi ancora non si è fatto una ragione di quello che è successo. Mino, appunto, per lei lo ideale è questo qua di Alzano, il suo, casa sua, e arriverà, quindi si aspetta anche un po' di persone che... Allora, noi ci proviamo, io personalmente la uso spesso, altri non lo so, anche perché non sono qua tutto il giorno, non posso vedere. Comunque sì, al di là di quello che qualcuno ha detto, non è che disturbiamo i defunti, cioè la cosa riguarda solo i vivi, è un ricordo, rievoca un ricordo, piacevole o non piacevole. Io quando l'ho usato, la prima volta ho pianto, la seconda volta mi sono scompisciato dalle risate perché ho sentito, cioè ho parlato tra me e me con un amico con cui facevo un mare di... Stupidate. Stupidate, ecco. Questo è il senso della cosa. Rievocare il ricordo, rievocare la memoria, niente di offensivo. È chiaro che rimane il massimo rispetto per le famiglie e per i defunti in particolar modo. È un modo come un altro di dire una preghiera ad alta voce utilizzando un mezzo simbolico, ecco, tutto qui. Noi vogliamo cercare di dare una cosa buona a tutti, non vogliamo ne offendere nessuno, come qualcuno, ma ci sta, è che qualcuno abbia una sua lettura personale della cosa. L'intento è sicuramente solo che positivo, ecco.